Oggi cheesecake al caramello salato, provatela perché è divina! Partiamo dal caramello salato, sciogliamo il burro con i due tipi di zucchero, il sale e la panna. Cuociamo fino a quando non si addensa, basteranno pochi minuti e lasciamo raffreddare completamente. Tritiamo finemente i biscotti e aggiungiamo il burro fuso. Mescoliamo. Rivestiamo una tortiera con carta forno, versiamo i biscotti e pressiamo prima con il cucchiaio e poi con un bicchiere per formare la base e i bordi. Mettiamo il frigorifero. Prepariamo la farcia, lavoriamo il formaggio spalmabile con due uova, lo zucchero e la vaniglia. Versiamo il composto nella base e poniamo in forno per 45 minuti, un'ora. Lasciamo raffreddare completamente anche 24 ore in frigorifero. Tagliamo a fette e guarniamo con il caramello salato. Et voilà! Tagliamo a fette e guarniamo con il caramello salato.